Siamo qui con Donatella Cere, componente del Consiglio Nazionale Forense. Avvocato, il suo commento al rapporto Censis. Buongiorno, innanzitutto. Sembra che i dati in continua tendenza, come l'anno scorso, continuino a disegnare un'avvocatura in difficoltà, un'avvocatura che pur se in ripresa non riesce ancora a cogliere delle opportunità e quindi a cominciare un percorso diverso. Il percorso diverso vuol dire un nuovo cambio antropologico-culturale, un modo diverso di vedere la propria professione, sia nella quotidianità che nella progettualità futura. Essenzialmente poi si vede una criticità ancora per le donne avvocato e per i giovani. E quindi mi auguro che questo rapporto sia poi un po' uno spunto di grande riflessione, che l'avvocatura sappia cogliere poi queste opportunità e appunto mettendo proprio in atto quel passaggio, quel cambio culturale che potrà sicuramente aiutarli nel capire dove sta andando un po' la nostra professione. Sicuramente in un mondo più imprenditoriale, un modo totalmente diverso di vedere l'avvocatura, un po' per l'avvento del processo civile telematico, l'avvento di un modo più veloce di concepire l'avvocatura di tutti i giorni. E quindi in qualche modo adeguiamoci, capiamo e cogliamo le opportunità. Questa essenzialmente è una piccola riflessione così, a caldo. Siamo qui con Alberto Vermiglio, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Avvocato, quale può essere il ruolo delle associazioni per cogliere la sfida al cambiamento? Il ruolo delle associazioni, in particolare quella dei giovani avvocati, può essere quella di indirizzare oggi quella parte giovane della professione verso quelle che sono le nuove esigenze dell'utenza. Io non lo chiamo mercato perché non mi piace, però abbiamo un'utenza che sono i nostri clienti che chiedono agli avvocati giovani una forte competenza, uno sguardo anche verso l'Europa che non è così lontana come molti vogliono far credere, uno sguardo verso un'organizzazione di studio sempre più strutturata anche in base alle nuove tecnologie che non devono fare assolutamente paura, in particolare noi giovani che siamo più avvezzi rispetto magari agli avvocati più navigati e soprattutto indirizzare verso quelle specializzazioni che sono davvero utili al fine dello svolgimento della professione. La specializzazione per un avvocato è necessaria, che poi sia legata anche ad un'utenza e conseguentemente anche un buon compenso professionale, credo che sia un buon obiettivo soprattutto per le giovani generazioni. Siamo qui con Gigi Panzini dell'Associazione Nazionale Forense. Avvocato, quale può essere il ruolo delle associazioni per cogliere la sfida al cambiamento? Le associazioni hanno un ruolo ben preciso e questo lo si è visto nell'ultimo anno e nell'ultimo periodo della legislatura. Se pensiamo alle maggiori novità che hanno riguardato la professione in quest'ultimo anno, penso alle società tra professionisti su tutte, credo che il ruolo delle associazioni sia stato fondamentale perché è proprio dalle associazioni che è venuta la spinta verso una maggiore aggregazione. Ma lo stesso può dirsi per esempio per i contratti di rete con la legge sul lavoro autonomo, penso anche alla specializzazione, penso anche alle aggregazioni. Ecco, è un ruolo tipico e immanente quello delle associazioni che consiste nell'elaborare quelle che sono le problematiche dell'avvocatura. Le associazioni sono presenti sul territorio e se penso alla mia associazione, l'associazione si è occupata dei corsi per diventare cassazionisti, per le società sostenendole fermamente, per la disciplina dell'avvocato dipendente di altro avvocato. Insomma, credo che le associazioni siano fondamentali, con un ruolo ben distinto rispetto alle istituzioni, che, lo ricordiamo, per legge hanno una funzione di controllo e quindi le associazioni hanno veramente il compito di essere propositivi e propulsivi su ogni questione che riguarda la professione. Credo che sia fondamentale e devo dire con un po' di rammarico, oggi molte associazioni si sono un po' appiattite sulle istituzioni e non è un bene per loro e per l'avvocatura. Siamo qui con Riccardo Santi, segretario dell'Unione Nazionale Camere Civili. Avvocato, quale può essere il ruolo delle associazioni nel cogliere la sfida al cambiamento? Le associazioni hanno sempre svolto e tanto più adesso possono svolgere un ruolo propulsivo e di stimolo alla categoria di apprestamento di strumenti di aggiornamento. La nostra associazione ha seguito e partecipato e implementato tra le prime corsi di specializzazione, ad esempio, che sono una tra le opportunità che vengono previste per l'incremento dell'attività professionale, per offrire uno strumento di scelta al cliente, per orientare i giovani, per adeguarsi alla sfaccettatura, molteplicità e complessità del diritto civile nel nostro caso e per consacrare anche le professionalità già acquisite. Questo è uno degli strumenti. Noi abbiamo sempre poi svolto un ruolo di interfaccia con il potere politico per quanto riguarda le istanze e le proposte di miglioramento della giustizia civile. In questo caso uno dei provvedimenti che è stato invocato, che alla fine è stato con successo emesso, è quello sull'ecocompenso, che cerca di temperare certe storture e distorsioni che le assimetrie di mercato avevano provocate con i dati che abbiamo visto durante l'esposizione di Cassa sul rapporto Censis e di cui vedremo l'esito perché andrà monitorato. Altro aspetto è quello dell'aggiornamento professionale costante perché abbiamo la specializzazione come sovrastruttura finale ma abbiamo un obbligo di aggiornamento permanente che le camere territoriali a chi aderiscono alla nostra associazione e continuano a svolgere nei loro territori di competenza quindi con riguardo agli obblighi della formazione continua.